Sono contento e posso dire anche emozionato perché di entrare subito dopo tre mesi che sono stato fuori e con il pubblico che mi ha acclamato appena entrato è stata ovviamente una grande sensazione, sono veramente contento. Ma rispetto alle altre partite magari non siamo stati brillantissimi nel gioco, però secondo me queste sono le vittorie migliori perché fai capire anche alle altre squadre che sono una squadra solida e difficili da penetrare. Poi abbiamo sempre avuto un mano pallino del gioco, la cremonese pochissime volte è riuscita a penetrare nella nostra difesa quindi è stata una bellissima vittoria, forse una delle più belle. Buon Zanato è una partita tosta perché loro in casa sono una squadra tosta, mi ricordo negli anni è sempre difficile andare là, poi l'ambiente è un po' strano, oggi non ne ha è così, devi sempre andare là con i piedi per terra e non mollare perché sennò rischi sempre di fare o figuracce o fare come ieri Cittadella che ha perso la BNF in un modo veramente brutto, infatti non ci credevo neanche io che sta vincendo la BNF. Andiamo ora sicuramente per vincere. Questo sta al mister, io lavoro sempre in settimana per mettere in difficoltà magari il mister o magari di cambiare qualcosina, modulo. Adesso non posso dire niente perché sono appena rientrato, quindi magari potrò fare la sua riserva per, come dico sempre, le scelte le fanmestre, io appena mi metterò dentro darò sempre il massimo come ho fatto anche oggi in cinque minuti. Grazie. Grazie.